ciao a tutti oggi girerò il tutorial di questi orecchini piccoli orecchini a lobo che appunto hanno il nome di angel heart e come vedete qui hanno il perno che obliquo così stanno bene al lobo l'incassonatura è un'incassonatura peyote ma che è già diversa sin dall'inizio proprio a causa del fatto che qui all'interno c'è un cuore di cristallo non un rivoli tondo da 12 mm appunto cristallo moce questo neocolore fucsia ab quindi insieme al ciondolo questi orecchini angel heart formano la parure omonima e la trovate in cinque diversi kit con il materiale necessario ovviamente per realizzare questa parure nel suo sito semplice bijoux questi kit hanno diciamo hanno avuto un piccolo problema per quanto riguarda l'assegnazione delle lettere per cui io nel video presentazione ho sbagliato insomma a collegare lettere a diversi colori perciò farò una ricapitolazione di tutti i colori vi faccio vedere tutti e cinque kit che sono disponibili sul sito semplice bijoux quindi questo innanzitutto è il kit di quello che io poi realizzerò appunto nel tutorial però vi faccio vedere il kit a con questi cristalli violetta b vedete gli orecchini molto belli e il ciondolo abbinato quindi questa è la parure a poi abbiamo la parure b che è questa qui che vi faccio vedere eccola qui gli orecchini e il ciondolo poi praticamente abbiamo la parure c questa era anche diciamo all'inizio anche nei video presentazioni e questa la parure c questa non è cambiata per fortuna con gli orecchini e ciondolo poi come vi dicevo già prima questa è la parure di con il cuore di cristallo fucsia a b e questa invece che vi faccio vedere adesso è la parure e ecco qui con gli orecchini e il ciondolo quindi fatta questa ricapitolazione vi voglio anche dire un'altra piccola cosa che nel video del ciondolo video tutorial del ciondolo di cui vi metterò il link io vi spiego anche come è possibile fare gli orecchini invece che semplici con la sola incastonatura ma con la stessa struttura quindi seguendo il tutorial del ciondolo è una piccola modifica che io vi spiego alla fine del video del appunto tutorial del ciondolo in maniera tale da ottenere degli orecchini questi sono i prototipi che io avevo appunto fatto per sperimentare degli orecchini di questo tipo con il perno molto oblicuo vi assicuro che sta bene all'orecchio e praticamente questo se nel caso in cui decidiate insomma che vi piacciono degli orecchini un po più grandi e comunque nel kit c'è il necessario per realizzarli ci sono in super 2 sufficienti per realizzarli in questo modo gli orecchini ok con il perno obbligo e però con la stessa struttura e quindi lo stesso tutorial del ciondolo facendo proprio una piccola modifica più che altro vi faccio vedere il momento in cui bisogna inserire il perno dietro questo però ve lo spiego nel tutorial del ciondolo di cui vi metto il link vi lascio all'elenco dei materiali che ovviamente sono i materiali che trovate nel kit per realizzare gli orecchini ma poi nel kit ci sono anche quelli per realizzare il ciondolo a tra poco per realizzare gli orecchini a lobo che insieme al ciondolo fanno parte della parola e in gerard che trovate sotto forma di kit sul sito semplici bijoux vi serviranno i seguenti materiali innanzitutto il filo di nano un monofilamento da 0 20 mm che non è incluso nel kit ma lo trovate sul sito semplici bijoux appunto poi vi servirà un ago numero 11 della pony inoltre vi serviranno questi materiali che appunto sono inclusi nel kit ma io ve li elenco comunque questi sono i due perni che sono dei perni fatti apposta per essere incasonati nella lavorazione e hanno un diametro di 6 mm e questi sono in acciaio poi serviranno due cuori da 12 mm in cristallo mocha e questi sono nel colore fucsia a b poi serviranno vero kai miyuki 11 0 questi sono nel colore duracot galvanized bright copper e poi ero kai miyuki 15 0 e queste sono nel colore duracot galvanized magenta a tra poco ecco iniziamo la lavorazione degli orecchini a lobo si tratta di una lavorazione a peiute però nello stesso tempo delle particolarità dovute al fatto che stiamo incastonando dei cristalli a forma di cuore ovviamente quindi adesso mettiamo sul lago 26 rocai 11 0 e faremo insieme la chiusura cerchio proprio perché questo video dedicato a chi non ha ancora tantissima confidenza con la tessitura di perline quindi portiamo queste 26 rocai 11 0 quasi alla fine del filo e qui praticamente dobbiamo ripassare vedete questo è il capo del filo e stiamo utilizzando il filo di un metro ve lo dico già da ora avvolgiamo questo filo attorno alle nostre dita e quindi ripassiamo in tutte le rocai che abbiamo messo sul lago che abbiamo infilato quindi ripassiamo in queste rocai risaliamo su così e dobbiamo portare a portarci a fare in modo che i due capi si incontrino vedete i due capi del filo si uniscano qui e facciamo due nodi adesso che tiriamo il filo le perline si avvicineranno tiriamo il filo e stringiamo bene molto bene perché altrimenti i nodi non si fermeranno bene rifacciamo un altro modo e tiriamo il filo e ci ritroveremo così adesso dobbiamo infilare questo capo quello che poi andremo a tagliare perché altrimenti ci darà fastidio andremo a sistemare nelle rocai e da questo lato così facciamo passare a volte ago uso un'ago apribile scusate per fare questo ma adesso per praticità infilo anche così a mano senza ago un attimo per giusto per nascondere questo capo corto del filo vediamo se riusciamo velocemente ecco effettivamente con l'ago apribile si fa prima comunque diciamo che può essere anche sufficiente così tagliamo questo filo vedete quello ovviamente corto e poi nel verso opposto ci infiliamo con il nostro ago con cui dobbiamo effettuare tutta la lavorazione ci infiliamo qui in un poche rocaille che seguono insomma giusto per allontanarci dal nodo e ci ritroviamo in questo modo ci vediamo tra poco ecco a questo punto mettiamo sul lago 3 rocaille 15 0 eccole e dobbiamo saltare le due rocaille successive a quelle in cui viene fa quella in cui viene fuori filo e ci andiamo inserire nella terza rocaille qui che segue ma anche nelle successive e in realtà ne dobbiamo attraversare 12 appunto adesso vi faccio vedere intanto tiriamo il filo e ci ritroveremo così questa sarà la puntina superiore del nostro cuore anche se adesso non sembra dopo vedremo e poi vediamo 3 6 7 8 9 10 11 e 12 dobbiamo ancora attraversare quindi 12 rocaille dopo quella in cui appunto ci siamo inseriti e compresa quella in cui ci siamo inseriti con le 15 0 ecco deve uscire da questo punto perché questa invece sarà la punta inferiore prendiamo infatti una rocaille 11 0 e ci andiamo inserire nella rocaille successiva senza saltare alcuna rocaille semplicemente nella successiva perché questa sarà la punta inferiore del nostro cuore e adesso vediamo come si viene a sistemare infatti attraversiamo anche le altre successive perché dobbiamo risalire su vedete si è formata la punta inferiore del nostro cuore intanto proseguiamo nel lavoro io girato il lavoro comunque per comodità però non aspettate faccio così altrimenti vi confondo continuiamo a salire su nella lavorazione fino ad arrivare in questo punto e cioè dobbiamo attraversare queste due rocaille ma attraversare vedete anche la prima rocaille 15 0 che ci troviamo di seguito solo una rocaille 15 0 tiriamo il filo e ci ritroveremo così adesso saltiamo la rocaille centrale e andiamo nella successiva ma anche vedete nella successiva 15 0 ma anche nelle due 11 0 che abbiamo di seguito e adesso vedremo perché intanto tiriamo il filo e facciamo andare questa puntina verso il basso così in questo modo ecco che si forma la sagoma diciamo del nostro cuoricino eccola qua e così ci ritroveremo in questo modo e adesso dobbiamo iniziare il giro che sarà più simile a quello del peyote a tra pochissimo come vi dicevo mettiamo adesso una rocaille 11 0 e proseguiamo come se fosse un normale peyote ovviamente ci saranno sempre delle differenze quindi cosa succede che per lavorare il peyote dobbiamo quindi saltare la rocaille che viene subito dopo quella da cui viene fuori il filo e andare nella successiva e ci ritroveremo così tiriamo il filo e ci ritroveremo così poi prendiamo un'altra rocaille 11 0 e ci andiamo a inserire non è la rocaille che viene subito dopo in quella successiva poi ancora prendiamo un'altra rocaille e ci andiamo a inserire nella rocaille non in quella che segue ma in quella successiva prendiamo un'altra rocaille e ci andiamo a inserire sempre saltando una rocaille prendiamo ancora un'altra rocaille e ci andiamo a inserire non in questa che viene subito dopo ma nella successiva farà un po di difficoltà perché la punta è un po scomoda anche perché poi dobbiamo attraversare anche la rocaille di punta ecco qui ce l'abbiamo fatta quasi ecco qui tiriamo il filo poi attraversiamo come vi dicevo anche la rocaille di punta attraversiamo anche la rocaille che viene subito dopo la punta così tiriamo il filo e adesso possiamo continuare il giro a peyote mettendo una rocaille 11 0 inserendoci non in quella che segue ma in quella ancora dopo poi un'altra rocaille 11 0 ci inseriamo non in questa rocaille ma in quella che viene dopo poi ancora prendiamo una rocaille 11 ci inseriamo nella rocaille saltandone una sempre queste sono le regole diciamo del peyote poi prendiamo un'altra rocaille andiamo non in quella successiva ma in quella ancora dopo solo in una così poi ancora una rocaille 11 0 e ci andiamo a inserire non in quella che segue ma in quella successiva così e ci troviamo qui su diciamo che qua appunto abbiamo sempre le particolarità e quindi prendiamo una 11 0 e ci inseriamo però in tutte e due queste rocaille che si trovano sopra la puntina delle 15 0 e poi un'altra rocaille 11 0 e completiamo il giro inserendoci in questa rocaille 11 0 che quindi vedete non è quella appena successiva ma quella dopo e poi faremo lo step up che è importante in questi cuoricini soprattutto nelle fasi successive che significa lo step up che praticamente usciamo sì nella rocaille dalla quale eravamo partiti ma poi se ci inseriamo in questa che sporge che è la prima che avevamo aggiunto in questo giro tiriamo il filo e ci troviamo così io ho girato un po il cuoricino durante la lavorazione per trovarmi meglio insomma per comodità e sicuramente lo farete anche voi ma penso sia comprensibile un giro di peyote e qui sia sotto che sopra abbiamo queste differenze diciamo queste particolarità queste cose a cui fare attenzione quindi saltare le tre rocaille di punta in questo caso attraversando le e qui attraversare insieme le due che si trovano sopra la puntina composta dalle 15 0 ci vediamo tra poco per fare quello che sarà il nostro quarto giro di peyote perché l'infilata iniziale vale come due noi ne abbiamo fatto un altro che questo appena fatto e poi adesso facciamo il quarto giro di peyote a tra pochissimo ecco io ho girato il cuore per comodità questo giro di peyote sarà abbastanza semplice perché ci sono le rocaille che già sporgono come vedete infatti prendiamo una 11 0 e ci andiamo inserire nella rocaille che sporge poi prendiamo un'altra rocaille 11 0 ci andiamo inserire sempre nella rocaille successiva che sporge ancora un'altra rocaille 11 0 eccola e ci andiamo inserire nella rocaille che sporge successiva prendiamo un'altra rocaille 11 0 e ci andiamo inserire nella rocaille di punta del nostro cuoricino eccola qui e tiriamo il filo e qui proseguiamo normalmente quindi prendiamo una rocaille 11 0 ci inseriamo nella rocaille che sporge poi di nuovo ci inseriamo qui nella rocaille che sporge un'altra 11 ci inseriamo qui ecco qua proseguiamo a inserire le 11 0 e arriviamo in questo punto questo punto che è la parte superiore del nostro cuore qui vedete c'è uno spazio maggiore e in questo spazio dobbiamo mettere tre rocaille 11 0 inserirci nella rocaille che sporge successiva così e poi una rocaille 11 e chiudiamo il giro ma facciamo lo step up quindi passiamo anche nella prima rocaille di questo quarto giro di peyote in questo modo quindi ci troviamo così adesso vedrete che tirando poi si inizierà un poco a curvare ma soprattutto nel giro successivo che sarà il nostro quinto giro di peyote con le 11 0 a tra poco iniziamo questo nostro quinto giro di peyote con le 11 0 mettendo sul lago una 11 0 e andandoci a inserire ovviamente non nella rocaille che segue ma in quella successiva che comunque sporge un po poi prendiamo un'altra rocaille 11 0 e ci inseriamo nella rocaille successi non in quella successiva ma quella che viene ancora dopo che sporge un po prendiamo un'altra rocaille 11 e andiamo a inserirci non in questa rocaille ma in quella successiva un'altra rocaille 11 e ci andiamo a inserire dicevo e ci andiamo a inserire nella rocaille non in quella successiva ma in quella che viene dopo vedete che quella che si trova a destra della punta proprio del cuore a punta inferiore e infatti qui dobbiamo prendere un'altra rocaille 11 e andarci a inserire dalla parte opposta in questa rocaille che viene subito dopo la punta sulla sinistra e ci andiamo inserire qui e tiriamo il filo tiriamo il filo e la punta si sistemerà qui qui proseguiamo ancora a peyote quindi prendendo una rocaille 11 inserendoci non in questa che segue ma in quella successiva un'altra rocaille 11 e andandoci a inserire non in questa rocaille che segue ma in quella successiva proseguiamo così andiamo ancora oltre vi faccio vedere solo la particolarità che c'è in alto ovviamente nella parte alta diciamo del cuoricino qui inseriamo le rocaille peyote normalmente non ci inseriamo in questa ma in quella successiva e qui ci troviamo vedete in corrispondenza cioè poco prima delle tre quelle tutte insieme che abbiamo inserito nel giro precedente prendiamo una rocaille 11 ci andiamo a inserire attraversiamo tutte e tre queste rocaille quelle che avevamo inserito unite come vi dicevo e poi dobbiamo mettere anche l'altra rocaille 11 e andarci a inserire in questa vedete saltando questa che viene subito dopo in quella successiva e poi credo ci sia l'ultima rocaille da inserire per questo quinto giro di peyote con le 11 e poi da fare lo step up quindi ci andiamo inserire non in questa che segue ma in quella successiva lo facciamo che quella da cui eravamo partiti ecco qui e poi dobbiamo passare anche attraverso questa qui che è la prima che abbiamo inserito in questo giro di peyote ecco qua quindi terminato il giro che era il quinto di peyote con le 11 0 dobbiamo iniziare a inserire le 15 0 e quindi prendiamo una 15 0 e ci andiamo a inserire nella rocaille che sporge successiva nella rocaille 11 0 che sporge successiva vedete questa adesso vedrete che si avvicineranno le rocaille e si inizierà a stringere il lavoro perché ovvio che tra un po dovremo mettere il coricino di cristallo prendiamo una 15 0 e ci inseriamo nella rocaille che sporge successiva prendiamo un'altra 15 0 ci inseriamo nella rocaille che sporge successiva poi prendiamo un'altra 15 ci inseriamo qui siamo nella rocaille di punta vedete sotto quella di punto originaria c'è un'altra rocaille di punta e ci inseriamo infatti qui prendiamo un'altra 15 e ci inseriamo nella rocaille che sporge successiva prendiamo un'altra rocaille 15 e ci inseriamo nella rocaille che sporge successiva che ci sembrerà distante ma è ovvio che questo lavoro è proprio allo scopo di avvicinare le rocaille tra loro e chiudere la struttura prendiamo un'altra 15 ci inseriamo qui nella rocaille che sporge successiva prendiamo un'altra rocaille 15 0 ci inseriamo nella rocaille che sporge successiva un'altra rocaille 15 e ci inseriamo nella rocaille che sporge successiva un'altra rocaille 15 e ci inseriamo nella rocaille che sporge successiva adesso dobbiamo fare attenzione perché siamo di nuovo arrivati nel punto in cui ci sono le tre rocaille 11 tutte insieme ma noi dobbiamo prendere una Rokai 15.0 e andarci a inserire, vedete, non in questa che è la prima delle tre, ma in quella centrale, nella Rokai centrale di questo gruppetto di tre che abbiamo qui sopra. Vedete, sempre in corrispondenza della puntina superiore. Andiamo qui, tiriamo il filo. Dobbiamo fare attenzione a questi passaggi. Prendiamo un'altra 15.0 e ci andiamo a inserire, saltando la successiva, in questa che viene dopo, perché questa è la terza del gruppetto, la saltiamo e andiamo nella Rokai che viene dopo. Qui prendiamo un'altra Rokai 15.0 e ci inseriamo nella Rokai che sporge successiva. E qui dobbiamo sempre fare attenzione perché è il momento dello step up, molta attenzione. Prendiamo una Rokai 15.0 e ci andiamo a inserire in questa che è la Rokai che sporge successiva, in realtà che è quella da cui siamo partiti. qui, vedete, infatti poi accanto c'è la prima delle 15.0 e noi dobbiamo assolutamente attraversarla. Ecco qui, la attraversiamo e quindi abbiamo realizzato, effettuato lo step up. Una precisazione, guardate sul davanti, ci ritroviamo così, sul retro dovremo aver inserito 14 Rokai 15.0. 7 da una parte e 7 dall'altra, 14 in tutto. Quindi adesso proseguiamo con un altro giro di Peiote con le 15.0. Infatti prendiamo una 15.0 e ci inseriamo nella Rokai 15.0 successiva. Difficile sbagliarsi perché è il primo giro delle 15.0 e proseguiamo così a Peiote. Prendiamo una 15, ci inseriamo nella 15 successiva, però dobbiamo fare attenzione alla punta del cuore. Prendiamo un'altra 15.0 e ci inseriamo nella 15.0 successiva e infatti adesso, siccome siamo in corrispondenza della punta del cuore, giriamo un po' il lavoro e vedete qui, non inseriamo la Rokai 15.0, ecco qui, ma passiamo direttamente nella Rokai 15.0 successiva senza inserire nulla. Perché? Perché dobbiamo stringere qui sotto la punta, vedete, del cuoricino. Qui siamo in corrispondenza della punta inferiore del cuoricino. Ok, qui non aggiungiamo nulla per questa volta e però prendiamo invece per proseguire un'altra 15.0 e andiamo nella 15 successiva e poi ancora avanti fino ad arrivare ai punti critici che sono praticamente sopra e sotto del nostro cuoricino. Prendiamo la 15, ci inseriamo qui, prendiamo la 15, ci inseriamo qui e adesso, come vi dicevo, siamo per arrivare nella punta superiore del nostro cuore. Allora, intanto prendiamo una Rokai 15, ci inseriamo qui e qua vediamo bene il punto in cui ci troviamo. Perché, guardate, siamo in questo punto che è quello della puntina. Io dico punta perché abbiamo qui la punta che va verso l'interno. Queste erano le tre che avevamo inserito insieme, intervallate dagli 15. In questo punto esatto, questo qui, dobbiamo, quindi in corrispondenza della puntina, dobbiamo mettere altre tre Rokai 15.0. Questo è importante perché dobbiamo inserire il perno e adesso vedremo insieme. Prendiamo le tre Rokai 15.0, ci andiamo a inserire nella Rokai 15.0 successiva. Tiriamo il filo. Ci ritroveremo così, vedete, sembreranno cinque in tutto. Intanto prendiamo il nostro cuore di cristallo, lo mettiamo all'interno della nostra lavorazione. Forse potrebbe essere finalmente anche un po' più semplice guardare questo peyote, osservare questo peyote. Ovviamente la punta la dobbiamo far corrispondere alla punta della nostra incastonatura, dove qui, vedete, ci sono le Rokai che si uniscono insieme. Ma intanto, prima ancora di proseguire, in questo spazio che è quello delle nostre tre Rokai, andiamo a inserire, vedete, proprio qui all'interno di questo archetto di tre Rokai, il perno da 6 mm, in questo modo. Così, lo inseriamo, tiriamo il filo e ci ritroveremo così. Dobbiamo tirare bene il filo, io giro un po', e poi però dobbiamo proseguire col giro di peyote normalmente. Quindi prendiamo una 15-0 e ci inseriamo nella 15-0 successiva. Prendiamo un'altra 15-0 e ci inseriamo nella 15-0 successiva. Ecco qui. Vedete che tutto si chiarirà dopo, vedrete. Tiriamo il filo, teniamo fermo ovviamente il perno in questi momenti iniziali. Prendiamo un'altra 15-0 e ci inseriamo nella 15-0 successiva. Però attenzione, perché adesso abbiamo già l'altra 15, quindi dobbiamo fare lo step up. Inseriamoci intanto nella 15-0 successiva, che è quella da cui eravamo partiti. E poi passiamo, cosa molto importante, nella 15-0 che viene dopo, che è la prima che avevamo inserito in questo giro. Tiriamo il filo davanti e che è importante tirare il filo in questa fase. Ok, adesso ci fermiamo un attimo e ci rivediamo tra poco. Adesso dobbiamo fare l'altro giro di peyote con le 15, quindi prendiamo una 15-0 dal punto in cui, come vi ho detto, eravamo usciti, che era il punto dello step up. E ci inseriamo nella rocai che sporge, in questo caso successiva, quindi semplici da individuare. Poi prendiamo un'altra rocai 15-0 e ci inseriamo nella rocai che sporge successiva. Tiriamo bene il filo. Qui siamo in corrispondenza delle rocai, vedete quelle che avevamo unito sotto la punta. Eccoli qui, e quindi in questo caso prendiamo una rocai 15-0, ma saltiamo completamente queste due rocai unite e andiamo in questa che sporge successiva. Giro un attimo per comodità, scusate, tiro il filo, vedete adesso si chiarisce e si stringe sempre più. Poi prendiamo un'altra rocai 15-0 e ci inseriamo nella rocai che sporge successiva. Prendiamo un'altra rocai 15-0 e ci inseriamo nella rocai che sporge successiva. Ancora un'altra rocai 15-0 e ci inseriamo nella rocai che sporge successiva. Prendiamo un'altra rocai 15-0 e ci inseriamo nella rocai che sporge successiva. Tiriamo il filo, però adesso in questi angolini qui, in questo angolino qui, non aggiungiamo una rocai 15-0, ma ci inseriamo direttamente nella rocai che sporge successiva. Perché dobbiamo stringere un po' anche qui ai lati, d'altronde le rocai naturalmente si avvicineranno un po' di più tra di loro. Adesso prendiamo invece una 15-0 e ci inseriamo nella punta, vedete, in quella centrale del gruppetto di 3 che avevamo inserito, che qui sembrerà un gruppetto di 5 perché si unisce agli altri rocai. Quindi in questa centrale, inserendo questa volta la rocai 15, tiriamo il filo, passiamo quindi, tiriamo qui e passiamo dall'altro lato del perno, prendiamo un'altra 15-0 e ci inseriamo nella rocai successiva che sporge, ma in quella che viene dopo passiamo senza aggiungere la rocai 15. Ho fatto questi passaggi insieme per comodità. Poi qui invece mettiamo la 15-0 e ci inseriamo nella rocai che sporge successiva. Qui mettiamo un'altra 15-0 e ci inseriamo nella rocai successiva, cioè non in questa che viene subito dopo, ma in questa successiva che qui è un po' più difficile da individuare perché è il punto dal quale siamo partiti. Quindi, ripeto, ci siamo inseriti in questa rocai, mettiamo un altro rocai sul lago, non andiamo in quella successiva, ma in quella ancora dopo, che è quella da cui siamo partiti, e poi attraversiamo anche la rocai che viene dopo, che è quella che abbiamo inserito per prima in questo giro, quindi la prima che abbiamo inserito facendo lo step-up. Ecco perché vi dicevo che in questi casi è importante fare attenzione allo step-up, cioè la congiunzione e la chiusura di un cerchio peyote per poi poter proseguire quello successivo. Ora vedete tutto sistemato, però è ovvio che dobbiamo ancora insistere perché qui si vede appunto ancora il perno, per renderlo più saldo dobbiamo proseguire a chiudere questa incastonatura peyote un po' anomala. A tra poco! E come lo facciamo? Prendiamo una rocai 15 e ci inseriamo nella rocai successiva che sporge un po', vedete? Poi però prendiamo una rocai 15 e ci inseriamo direttamente in questa rocai che abbiamo dall'altro lato, in maniera speculare, in maniera simmetrica, perché qui sempre sotto la puntina va chiusa. Poi prendiamo una rocai 15 e andiamo nella rocai che sporge successiva, poi prendiamo una rocai 15 e andiamo nella rocai che sporge successiva, qui non aggiungiamo la rocai 15 e ci inseriamo direttamente nella rocai che sporge che viene dopo, quindi qui non aggiungiamo la 15 e 0, tiriamo il filo, adesso vedete che qui si sono create delle puntine ai lati, queste le andiamo a riempire aggiungendo una rocai 15 che prendiamo e andiamo quindi bypassando queste tre direttamente in questa che viene dopo. Poi qui dobbiamo prendere una rocai 15 e inserirci in quella centrale, qui dobbiamo prendere una rocai 15 e inserirci in questa laterale al lato del perno e tiriamo il filo e guardate come ci ritroviamo. Qui, in questo spazio più ampio che si era creato come vi dicevo prima, dobbiamo mettere una rocai 15 e andarci a inserire bypassando queste tre rocai direttamente in questa che viene dopo e che sporge. Tiriamo il filo, dicevo tiriamo il filo e ci ritroviamo così, ma cosa molto importante, appena dopo questo passaggio non aggiungiamo la 15 e 0, ma ci inseriamo nella rocai che sporge successiva senza aggiungere altro, come abbiamo fatto simmetricamente da questo lato, perché qui poco prima di aggiungere la rocai che chiudeva diciamo lo spazio maggiore abbiamo attraversato le rocai 15 e 0 senza aggiungere nulla, stessa cosa dobbiamo fare qui. Qui abbiamo coperto lo spazio maggiore e stessa cosa abbiamo fatto qui e qui abbiamo inserito le due rocai ai lati del perno e l'abbiamo fatto. Adesso, attenzione perché abbiamo il momento, diciamo, step up, prendiamo un'altra rocai 15 e ci andiamo a inserire in questa rocai che, vedete, sporge sì ma adesso risulta più arretrata perché è quella dalla quale eravamo partiti e quindi tiriamo il filo. Tiriamo il filo e ci ritroveremo così, quindi adesso facciamo lo step up entrando in questa che sporge, che è la prima che abbiamo inserito in questo giro e ci ritroveremo così. Vedete com'è simmetrica questa struttura? Adesso abbiamo qui i due spazi di nuovo più grandi che si sono formati perché dobbiamo stringere ai lati del cuore. proseguiamo tra poco. Adesso da questo punto, che è il nostro step up, prendiamo una rocai 15 e 0 e ci andiamo a inserire nel punto che simmetricamente troviamo dall'altro lato, nella rocai che sporge simmetricamente dall'altro lato perché questa è la punta sotto che noi sempre dobbiamo stringere. Tiriamo il filo, infatti vedete ci ritroveremo così. poi qui, io direi, attraversiamo questa rocai senza aggiungere nulla, questa che sporge successiva, poi prendiamo invece una rocai per chiudere questo spazio più grande che abbiamo simmetricamente anche dall'altro lato, quindi bypassiamo queste tre che ci troviamo qui e passiamo invece in questa che troviamo sopra, poi prendiamo una rocai 15 e ci inseriamo in questa rocai che sta a destra del perno, una rocai 15 e ci inseriamo nella rocai che sta a sinistra del perno, quindi questa si vendrà a posizionare centralmente rispetto al perno, tiriamo il filo, si chiarirà meglio, schiacciamo anche qui, prendiamo un'altra rocai 15 e ci andiamo a inserire in questo punto, in questa rocai qua, che abbiamo ancora più sulla sinistra, tiriamo il filo, adesso per riempire questo spazio, scusate non si era posizionata bene, per riempire questo spazio più ampio che avevamo anche dall'altro lato, mettiamo una rocai 15 ma sorpassiamo tutte queste rocai e andiamo direttamente in questa sotto che sporge e poi anche in questo caso invece qui non aggiungiamo nulla e ci inseriamo direttamente in questa rocai qui che sporge, e poi per chiudere tra virgolette il cerchio ritorniamo in quella centrale che è stata la prima che abbiamo aggiunto termino un attimo questa operazione che sono un po' scomoda ecco qua sono andata a inserirmi nella prima che avevamo aggiunto in questo giro adesso tiro il filo che si chiarisce meglio la situazione e ci ritroviamo così schiacciando bene abbiamo queste rocai che adesso andremo a ripassare proprio queste ultime inserite tutti intorno per stringere bene quindi passiamo qui attraverso queste due che in effetti non avevamo aggiunto alcuna rocai qui che avevamo aggiunto la rocai per chiudere lo spazietto più grande poi qui in questa che avevamo aggiunto però passiamo direttamente in quella centrale nell'altra che abbiamo aggiunto ai lati del perno vi ricordate tiriamo il filo così poi qui andiamo senza aggiungere nulla sempre in questa che avevamo aggiunto per riempire lo spazio maggiore e poi in quella successiva che sporge e attraversiamo ancora queste due rocai quella da cui avevamo partiti e la prima appena aggiunta perché appunto adesso dobbiamo semplicemente passare in queste stringendo e otterremo la nostra chiusura dell'incastonatura ecco qui ripassate ancora un po' in questi in quest'ultimo giro in queste rocai e quindi ce ne vediamo per poi andare sui lati tra le 11.0 a fare un paio di nodi e abbiamo terminato in effetti temo che insomma questa sia la parte effettivamente un po' più complicata di tutto questo progetto vedete io ho fatto ancora un giretto di rinforzo qui tra queste ultimissime rocai e adesso mi porto invece ad uscire lateralmente per quanto riguarda il nostro cuore per poter semplicemente fermare il filo quindi attraversiamo possibilmente in diagonale queste rocai che ci portano sul giro esterno così da poter fare più comodamente il nudo tipo anche in questo punto possiamo fermarci e fare vedete andandoci a inserire qui sotto il filo ci inseriamo sotto nel filo che c'è tra le rocai e facciamo due nodi inserendoci nel cerchietto nell'asolo che si viene a formare tiriamo il filo facciamo un'altra volta un altro nudo come vi dicevo passando qui sotto e poi inserendoci nel cappietto ora proseguiamo ancora un po' con il filo nella lavorazione come sempre per non tagliare il filo vicino al nodo probabilmente ci conviene andarci a inserire qui un po' nelle rocai che troviamo lungo il nostro percorso nelle 15 o nelle 11 come effettivamente potrebbe essere più comodo proseguo ancora davvero poco per farvi poi vedere come viene invece l'orecchino da davanti cosa che non abbiamo avuto modo di vedere perché effettivamente la cosa più seccante diciamo di questo progetto forse più noiosa è quella di chiudere sul retro intanto taglio il filo facendo in questo modo tirando il filo e tenendo le forbici accanto al lavoro qui vedete abbiamo il nostro cuoricino di cristallo con il color fucsia incastonato con la puntina sopra e la puntina sotto che appunto ci consentono di mantenere la forma a cuore qui abbiamo il gancetto che chiude ovviamente come sapete se seguite i miei tutorial per far stare bene al lobo gli orecchini appunto per far stare bene questi orecchini all'orecchio è importante che rispetto alla lavorazione il perno sia diagonale e vada verso l'alto come abbiamo appunto fatto noi è molto importante questo perché se il perno fosse dritto gli orecchini vi assicuro che l'orecchio penderebbero in avanti ecco qui il nostro orecchino ora non ci resta che realizzare l'altro orecchino seguendo sempre il tutorial ovviamente anch'io devo farlo e quindi ci rivediamo tra poco con gli orecchini terminati ecco qui ho completato anche l'altro orecchino ve li faccio vedere sul retro eccoli qua in pratica questi appunto sono gli orecchini Angel Heart che fanno parte di una parola insieme al ciondolo che vi faccio vedere qui e i kit li trovate sul sito semplici bijoux ovviamente adesso vi lascio anche le slide per vedere le altre varianti di colore che potrebbero essere ancora disponibili vi ringrazio ancora e ci vediamo alla prossima occasione a presto a presto a presto a presto a presto a presto a presto